Si sono aperte con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti della Guardia di Finanza situato davanti alla caserma provinciale di Barletta, le celebrazioni nell'abbatt dei 250 anni del corpo di polizia le cui origini si fanno risalire alla nascita della legione truppe leggere dell'esercito Sabaudo. Una ricorrenza speciale onorata con una cerimonia pubblica all'ingresso del castello, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio. La lettura del messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella è stata seguita dal saluto del comandante provinciale il colonnello Pierluca Cassano e dalla consegna degli encomi ai finanzieri che con il loro impegno testimoniano il quotidiano lavoro di tutte le fiamme gialle al servizio della collettività. Un'occasione per condividere i valori fondanti della Guardia di Finanza e raccontare una storia lunga 250 anni. Il nostro slogan appunto è nella tradizione del futuro, la tradizione appunto risponde agli ideali di lealtà, onestà, spirito di sacrificio, senso del dovere, compattezza. Il futuro rappresenta le sfide che ci aspettano, una criminalità sempre più agguerrita, sempre più tecnologica, sempre più ricercata e raffinata. Positivo il bilancio delle attività della Guardia di Finanza della BAT dall'inizio del 2023 ad oggi, eseguiti 3.000 interventi ispettivi ed oltre 220 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Risultati spiega il comandante Cassano che evidenziano un impegno a tutto campo delle fiamme gialle a tutela di famiglie ed imprese. Un anno e mezzo che ci soddisfa molto dal punto di vista dei risultati, un anno e mezzo di raccolta rispetto a quello che è stato seminato all'inizio della nascita di questo comando che ricordo ha soltanto due anni e mezzo, ma che al tempo stesso ha seminato anche in questa fase di raccolta per il futuro perché non è mai abbastanza. A volte i nostri risultati sembrano una goccia nel mare, ma serve anche far capire alle persone che invece vivono di onestà che passare dall'altra parte non conviene.